La Presidente della Provincia di Padova, Barbara De Gani, e la Giunta Provinciale hanno incontrato i sindaci e gli amministratori di 16 comuni che ricadono nell'area di Selvazzano, delle Terme e dei Colli Euganei. Molte sono le tematiche di questo territorio, sicuramente il Parco dei Colli, sicuramente anche la visione urbanistica che si vuole dare di questo territorio nel futuro e quindi con il PATI la discussione su questo, ma anche le ultime vicende che hanno riguardato il rischio idraulico, primo perché abbiamo avuto delle frane anche in zona Colli e secondo perché siamo a Selvazzano e Veggiano, comuni che sicuramente sono stati colpiti dall'escorso alluvione. Oggi si fa un'analisi in base anche ai dati e soprattutto ascoltiamo il territorio e quindi ci sarà l'ascolto da parte di tutta l'amministrazione provinciale della Giunta, dei sindaci del territorio e saranno loro che ci daranno gli spunti per poi attuare quel piano strategico provinciale che riguarda tutta la provincia e quindi parlando delle specificità di questo territorio. Selvazzano è alle porte della città di Padova e quindi tutto ciò che diventa un servizio diventa un servizio anche in diretto per le altre cittadinanze. Trasporto pubblico, l'allargamento di via Peloso, quanto prima è messo in sicurezza e tutti i servizi collegati agli impianti scolastici, compreso il liceo che è uno degli stabilimenti e degli impianti fondamentali e terminanti dell'ambito scolastico della provincia di Padova.